Scopri il lato divertente del regno animale. Stazione di Gallipoli. Arriva un treno, si ferma, si apre lo sportello, si affaccia una gallina con due pesantissime valige. Sporge il capino a destra, poi a sinistra, zompetta sul primo gradino. Risporge il capino. Esausta per il peso del bagaglio, grida TACCHINO! Un barbone ruba un pollo per sfamarsi e va sulle rive del fiume a mangiarlo. Accende un fuocherello, tira il collo alla gallina e comincia a spennarla. All'improvviso arriva un vigile, il barbone butta subito il pollo nell'acqua, ma il vigile avendolo notato. Cosa ha buttato nell'acqua? Nell'acqua? Io? Niente, perché? E allora, cosa sono tutte queste penne? Niente. C'era un pollo che si voleva fare un tuffo e mi ha detto se gli dava un'occhiata ai vestiti. Sapete qual è il piatto preferito dai coreani? La pasta aglio, olio e barboncino. Una pattuglia della stradale ferma un'auto con alla guida un cane e da fianco un uomo. La gente si avvicina all'uomo. Ah, bene, facciamo pure guidare il cane, eh? Beh, veramente, io ho chiesto solo un passaggio. Due maiali partecipano ad una trasmissione di Paolo Bonolis. Misco Bonolis, non avrebbe mica due domande da porci? Che lusso avete anche il caviale. Veramente è una fetta di torta? Ma cosa vuole con tutte queste mosche? Regla? No, non è un salario. Ciao. Sì, ciao.